Tornano gli studenti universitari a Padova e con loro torna il problema non risolto della carenza di alloggio, o meglio, dell'emergenza abitativa che riguarda molti fuori sede, che non riescono a trovare affitti a prezzi abbordabili. Secondo una statistica di immobiliare.it, in media per una stanza in città si arriva a spendere sui 400 euro, cifre spesso inaccessibili per molte famiglie. Servono interventi strutturali. Se parliamo di 71.000 studenti iscritti all'università di Padova, non possiamo pensare che con 90, 100 posti riusciamo a risolvere effettivamente un tema che ormai non è più marginale, ma riguarda anche il diritto allo studio. Perché tantissimi studenti e studentesse ci stanno scrivendo, ma se non riesco a trovare casa, cosa farò? Cosa devo fare? Devo disiscrivermi dall'università? Un problema che si trascina da anni, quello degli alloggi per gli studenti, che non può essere risolto con interventi spot. Serve un piano strutturato, chiedono gli universitari. In tre anni di crisi abitativa, come possa effettivamente cambiare il problema? Se il ministero, se il governo, se le regioni o le amministrazioni non si impegnano per questo tema. A maggio eravamo con le tente, siamo anche molto delusi dalla condizione di settembre, ma lo sapevamo. Lo sapevamo che le stanze costavano intorno ai 400-450 euro. Non avevamo bisogno di una statistica, già lo vivevamo a maggio, lo stiamo vivendo tuttora a settembre. Ed è veramente deludente dover ridire una volta, denunciare questa condizione. Il tema dell'emergenza abitativa va di pari passo anche a quello delle borse di studio. Gli studenti si dicono pronti a tornare a protestare. Che siano le tente, che siano di nuovo le proteste, a questo punto anche davanti alla regione. La regione deve, in fase anche di bilancio, iniziare seriamente a pensare investimenti sul diritto allo studio. Grazie a tutti.